Questa mattina sitina in piazza Università delle studentesse di scuole Università di Catania a cura della rete Nudum con l'obiettivo di scardinare il luogo comune secondo cui le donne sarebbero soggetti deboli e soprattutto di notte debbano attraversare le strade di questa città sempre in compagnia di una qualunque figura maschile. Questo pomeriggio spinte dallo slogan le strade sicure le fanno le donne che le attraversano manifestazione cittadina e corteo con partenza alle 16.30 da piazza Roma. Oggi le donne hanno deciso di fermarsi, anche a Catania esiste il movimento non una di meno che è un movimento globale, che ha una risonanza anche nazionale. Su Catania il centro antiferenza l'ha promosso fortemente a partire da due anni fa e ha avuto un grande seguito di associazioni, di soggettività e adesso ci troviamo tutte insieme per questa giornata di lotta, una giornata di rimedicazione di diritti in cui vogliamo affermare l'8 marzo come una giornata di lotta e non di festa, come amano spacciarcela. Il centro antiviolenza ha deciso di puntare sull'aspetto della violenza economica che è il terzo tipo di violenza che le donne subiscono dopo quella fisica e quella psicologica che pari al 36% e la violenza economica è un deterrente fondamentale perché poi è spesso quello che blocca le donne rispetto all'inizio di un percorso di fuoriuscita alla violenza o più semplicemente la denuncia perché stare sotto il ricatto economico del proprio compagno e del proprio marito le mette in difficoltà rispetto alla scelta di decidere. Questo per noi è un momento fondamentale e invitiamo tutte le donne, quante e più donne possibile, a dire basta alle molesse sul lavoro, a dire basta alle soffruse, a dire basta alle violenze perché chiediamo che finalmente ci possa essere una parità di diritti.